Il Particle View è accessibile da diverse strade, dal menu a discesa Graphic Editor Particle View, dal tasto del pannello Modifier e tramite Shortcut da tastiera, tasto numero 6 sopra le lettere. Esso rappresenta l'area di lavoro dove poter generare e controllare le Particles del P-Flow e si divide in tre grandi aree, ma in realtà è composto da un menu a discesa, Event Display, l'area di lavoro dove è possibile sviluppare i diagrammi del P-Flow, Parameters Panel, il pannello dei parametri che varia in base ai tools selezionati, Depot, dove vi sono tutti i tools o le azioni che si possono inserire e sviluppare all'interno del P-Flow, Description Panel, il pannello delle descrizioni brevi dell'azione selezionata nel Depot, Display Tools, gli strumenti per la navigazione o visualizzazione all'interno dell'Event Display. Possiamo aumentare l'area di lavoro andando a modificare un piccolo aspetto come la descrizione o il Depot, per esempio, dal menu a discesa Display e togliere il check sugli elementi dell'interfaccia di nostro interesse.